Musica Capo canoniere della sessantesima Copa Titano 2017-18 Paganelli Riccardo del Perfetto di Conoctore Grazie Premiamo ora gli arbitri della finale della sessantesima Copa Titano Paganelli Riccardo del Perfetto di Conoctore 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 Seconda classificata della sessantesima Copa Titano 2017-18 Paganelli Riccardo del Perfetto di Conoctore del Perfetto di Conoctore Grazie Applausi Grazie Paganelli Riccardo del Perfetto di Conoctore Pagni! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La quattesima Coppa di Tano 2017-2018, la società La Fiorita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.